Ciao a tutti dal Saludatore, eccomi qui con una grandissima Cecilia. Ciao a tutti, buonasera. E' curiosissima di salutare tutti i miei fan del Poi, e mi raccomando di seguire, se non ci fanno le faggine a un'esplosione, se non ci fanno le faggine a un'esplosione, e ci fanno tutti e... Ciao. Speciale a tutti, social, ammazzini. Sì, sì, sì. Vi comprovi il disco se mi dà la risposta. E' bellissimo! E' bellissimo! Tutto da comprare anche per i canali, che già l'ha comprato qui. E' bello, significa mio, un bel messaggio. Forte! Grazie a tutti. Ciao!